Esordio 2022 è strepitoso in pista per uno scatenato a ombra magliona nel master tricolore prototipi sull'autodromo di Vallelunga, circuito dove il già pluricampione delle cronoscalate era il debutto assoluto. Dopo aver centrato la pole position in entrambe le qualifiche del sabato, il driver sassarese ha vinto al volante della norma EV20 FC preparata dal team toscano CMS Racing Cars sia gara 1 sia gara 2 del primo round della serie nazionale organizzata dal gruppo per ogni race. A coronamento di weekend perfetto nelle due corse dominate domenica, magliona ha anche fatto segnare il giro più veloce. Il pilota sardo e testimonial della fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ha così inaugurato al top assoluto la sua prima stagione completa in pista con la Sports Cars Cerny 2, dando ora appuntamento al secondo round del master tricolore prototipi il 18 e 19 giugno al Misano World Circuit dove si ripresenterà al VIA dal leader della classifica. Europe Grazie a tutti.